Va bene, io avevo visto anche un Wither Skeletor, però prima di farmi attaccare dal Magma Block C'è anche una Blade No, 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 ho colpito un Pigman, raga, sono un uomo morto Sono un uomo morto, raga, sono un uomo morto Sono un uomo morto che cammina, raga, sono un uomo morto che cammina Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo... che cosa ho fatto? Ho distrutto un muro, va bene, non fa nulla Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati sulla MaulloCraft Signori miei, continuiamo l'esplorazione della fortezza e vediamo di portarla a termine, cercando di rimanere vivi Aspetta un attimo che cambia di nuovo l'inquadratura, perfetto ragazzoli, prima di partire con l'esplorazione Io vi ringrazio per i like e per i commenti che lasciate a questo video, vi ringrazio per il supporto che state dando a questa serie Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941 sia su Instagram che su Facebook, link in descrizione E mi trovate anche, se volete sostenere il canale, trovate anche in descrizione il link per effettuare delle piccole donazioni con Paypal Detto questo, signori miei, partiamo col video Ok ragazzi, ripartiamo Qui già c'è un pigman che ci voleva salutare, noi spade in mano, signori, con calma Allora, di là non c'è nulla, di là c'è il macelle, il delirio più totale, ottimo Di qua c'è qualcosa, possiamo... Aia! Stavamo per morire malissimo, stavamo per morire malissimo raga Brutto inizio, brutto inizio di video Che cos'è? Ma state scherzando? Neanche il tempo di iniziare il video che qua già le blades devono rompere le scatole Allora qua prenderemo il Wither Skeletor, perfetto, che giustamente di la cosa è stato Non si sarà accorto che siamo stati a shottarlo, però va bene Siamo riusciti ad eliminarlo e recuperare anche queste blades Quante blades stiamo recuperando raga? Possiamo andare a cercare la fortezza in uno dei prossimi episodi raga Fortezza in uno dei prossimi episodi Vediamo un attimino, cerchiamo un attimino di trovare una strada per continuare la spedizione raga Il Wither Skeletor per noi raga, che giustamente non poteva non avvelenarci Mi sembra che non ci avvelenava Ci ha avvelenato il Wither Skeletor, perfetto Mangiamo, se no noi qui ci lasciamo le penne Da qua e da dove ci siamo andati noi, sì Come cavolo è formata questa fortezza raga, mi sono perso Raga, abbiamo distrutto uno spawner di blades Almeno ci siamo un attimino liberati di questa situazione Ora dovrebbero essere molte meno le blades che spawnano Il problema è che io non capisco dove si vada in questa fortezza, signori miei Io ho un problema di orientamento in questa fortezza Ok, forse di qua non eravamo andati raga Di qua non eravamo andati Lacciamo subito un Wither Skeletor che ci sta inseguendo Ok, lasciamolo fuori No, che mi droppi una testa, vero? No, noi abbiamo sempre una sola testa raga Nello scorso video siamo riusciti a trovare una testa di Wither Qui c'è qualcosa di pericoloso Là c'è una cassa, allora Mettiamo delle torce qui raga, così ci ricordiamo che siamo venuti di qui E andiamo a vedere quella cassa subito Subito, cassa per noi, cassa per noi Bella così Cucù Là ci sono delle blades Bandatura d'oro Che ce ne dobbiamo fare la bandatura d'oro? Mamma mia, me la sono vista arrivare proprio in faccia Aia, e di nuovo Due su due, bravi queste blades Ma morirete subito Vi devo far fuori Quante blades ci sono comunque raga, è assurdo Io non so se il discorso è l'aggiornamento Ma io non me le ricordo tutte queste blades praticamente Nelle fortezze Me le ricordo, sì Ma non tutte queste Mannaggia a te Mannaggia a te Mi ha fatto prendo un colpo Altra cassa per noi Altra cassa per noi Taglie così, taglie così Cucù Non c'è niente Taglie, taglie Oh, diamantozzi per noi Bella così Un'altra Altre bardature E una spada d'oro Che non abbiamo che farci Ne lasciamogli anche quelle vecchie Che non ci servono a niente E va bene così Continuiamo la ricerca raga Continuiamo la ricerca Scendiamo, scendiamo raga Intanto andiamo di qui E scendiamo Salve Cassa e Wither Skeletor Che ci ha visto Sì, ci ha visto male Ci ha visto male Ma noi ti ammazziamo Me l'hai dato una testa No, ahia Non l'avevo visto Suo fratello sopra Ahiai, mi ha fatto prendere un corpo Zio Mamma mia Cassa per noi Cassa per noi Di qua c'è niente No Bardature per cavalli Che sinceramente non ci servono Però vabbè Una di ferro ce la portiamo raga Una di ferro ce la portiamo Magari possiamo farci La scuderia Con i cavalli tutti carini Continuiamo a scendere Netherrack Netherrack Questa ce la portiamo Questa ce la portiamo Ci serve Ci serve Andiamo giù prima Prima andiamo giù Prima andiamo giù E poi saliamo su Allora, giù non c'è niente Saliamo su Adesso c'è un Wither Skeletor Che si è lanciato male Però Già si è mezzo ammazzato da solo Noi gli diamo il colpo di grazia Dai, zio Mi la dai una testa No, mamma mia Ci sono un sacco di Wither Skeletor Oddio Uno che mi droppa un'altra testa Oddio Uno carino e coccoloso Che mi droppa un'altra testa Niente Salve Niente Muro Ok, torniamo indietro Torniamo su Torniamo su Raga Allora Là c'è Noi veniamo di qua Andiamo da questa parte Di qua si sale Di qua si sale Noi in tutto questo Dovremmo anche riuscire a trovare Il portale che avevamo creato noi L'altra volta Signori miei Perché non l'altra volta Avevamo creato un portale Che io poi avevo Completamente lasciato Messo da parte Di qua non c'è nulla Andiamo di qua Di qua non c'è niente Ehm Un portale che ci serve Per ritornare nel mondo Nell'overworld Che ci serve perché Salve Salve Tutto chiuso Però io sento le blaze C'è una strada Da questa parte E che fai Guarda Me la sono chiamata Praticamente Mi sono chiamato La blaze Devi morire Devi morire Devi morire Devi morire Ok Eliminata Questa strada L'abbiamo già fatta prima Là c'è una cassa E là c'è il mondo di blaze Lo ho diventato Ok Arco in mano Me le facciamo fuori a uno a uno Tagli così Mi sa che c'è Ci sarà un altro spawn di blaze Che poi c'è Un solo spawn di blaze E 8000 blaze In tutta la fortezza Impressionante Quella è morta Riesco a ciapparla No Si è nascosta Andiamo a vedere questa cassa Salve Salve Mi sto perdendo raga Mi sono ufficialmente perso Ossidiano Non ci serve Mi dai la spada Grazie Blaze Ancora per noi E quando mai Dai è così Io riuscissi a trovare Il portale che avevamo fatto Noi l'altra volta Sarebbe tantissima roba Sento un guider scheletro Ma non lo vedo Sento un guider scheletro Ma non lo vedo Ora mi sbucherà di colpo Allora da qua è da dove siamo venuti noi Si Si Di qua è da dove siamo venuti noi Andiamo di qua Dove c'erano le blaze prima C'è un'altra che gioca a nascondino E mo ti ciappo Ok Vuoi giocare a nascondino con me? Non ti conviene Abbiamo trovato un'altra zona raga Una specie di piattaforma Che scendiamo E andiamo a visitare Io sono sempre alla ricerca Del mio portale Signorimi Perché mi piacerebbe tornare a casa Da quel portale Qui c'è il vuoto piuttadale Quel guider scheletro Sta venendo lui da noi Ti vogliamo tanto bene per questo zio E morirai male Perché hai osato sfidare la tua vita E niente però Mi ha dato solamente carbone Vediamo di qua dove si va raga Stanno attenti a non cascar di sotto Raga allora Mi sa che la fortezza L'abbiamo visitata tutta Non ci vedo altre zone da poter esplorare Di là siamo andati Di qua siamo andati Mi sa che la fortezza L'abbiamo esplorata tutta raga Le casse le abbiamo trovate Abbiamo trovato dei buoni materiali E l'unica cosa che mi sarebbe piaciuto Riuscire a ritrovare Era il portale Che abbiamo costruito l'altra volta Per riuscire a tornare velocemente a casa Ma la vedo un'impresa molto difficile Per non dire difficilissima Prima di salire di qua verso l'alto Vediamo se troviamo qualcosa Che ci aiuta a ritrovare quel portale Che avevamo fatto vicino a un muro sospeso Qui addirittura c'è Ci sono altri pezzi di fortezza Ma dove siamo? Raga siamo usciti all'aperto Siamo usciti all'aperto Essendo già un gas che ci sta a sparare Ma porca miseria Neanche il tempo di dire buongiorno Che subito i gas ti devono rompere le scatole Dove sei? Dove sei antipatico? Dai Come fa a spararmi? Dalla traiettoria del proiettile che è arrivato Te sei in questa direzione di qua Fatti vedere Brutta canaglia E ecco Continua a sparare senza un motivo Non ti ho fatto niente zio Comunque recuperiamo questa luminite Che ci serve per illuminare casa nostra Dai e così Dai e così Ok Io purtroppo il portale dell'altra volta Non lo riesco a ritrovare raga Il portale dell'altra volta Non lo riesco a ritrovare Continua a cercarlo un altro poco off camera Se no recupero anche questo quarzo di qua Che comunque ci dà esperienza E poi vediamo se riesco a trovare un altro poco off camera Aia Chi è che mi ha colpito? Lo scheletro Zio Io ho ammazzato il Wither Skeletor E secondo te mi preoccupo di uno scheletrino lì Che sta a divertirsi Dai e così Vediamo se la trovo off camera un attimino questo portale Se no raga torniamo dalla strada normalmente Quella che abbiamo fatto all'andata Niente da fare raga Niente Ci ho provato Ho girato in giro In lungo e largo Ma il del portale Nessuna notizia Mi sono spaventato Pensavo fosse I magma block Questi mi tornano utili Ammazzali Ammazzali Vende neanche mi ricordo cosa si possa fare Con i magma block Però Portiamoci sti magmini a casa Che possono tornare sempre utili Meglio dire che ce li ho Che dire che non ce li ho Solamente questi pochi Va bene io avevo visto anche un Wither Skeletor Però prima di farmi attaccare dal magma block C'è anche una blade No 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 Ho colpito un pigman raga Sono un uomo morto Sono un uomo morto raga Sono un uomo morto Sono un morto che cammina raga Sono un morto che cammina Sono un morto che cammina raga Sono un morto che cammina Perché il pigman è pericoloso Il pigman è pericoloso Riusciamo a fare un muro No non ci riesco a fare un muro Riesci a fare un muro Mannaggia a te Allora facciamoli fuori Facciamo fuori tutti questi qua Allora siamo calmi Siamo calmi Siamo No No Allora facciamoli fuori tutti questi qua